VOLARE Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Non sono riuscita a prendere l'aereo per la Corea. Dov'è la mia attrice? Cos'è successo? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Tutto bene? Tutto bene un cazzo! Vai a vedere quando c'è il prossimo volo per Seoul. Mi hai sputtanato, di la verità. Mi hanno ripescata. Da dove? Da Stanford. Perché non me l'hai detto prima? Perché sta in California. Mi accompagna papà. Abbiamo già organizzato tutto. Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione! Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore dell'aereo. Stai in aria perché hai fatto per volare. Lui sì. Poi no però. Comandà, scusate ma stiamo precipitando. Che fesca! Ero non mi piace ma non è pericoloso. Sto per prendere l'aereo papà. Perché io voglio volare? Voglio diventare una persona normale. devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché poverino? Ho? Dappunto devo tornare una cosa favola.